Un pazzo saluto a tutti ragazzi siamo Pazzuis e oggi facciamo un video penso fighissimo perché proveremo Zidane96 e tutte queste altre bestie qui che abbiamo trovato nel draft challenge che l'abbiamo fatto con il dato quindi se non l'avete visto andate subito a vederlo Danti like come astag voglio astag Zidane perché si cavolo 96 ragazzi guardate che forte questo giocatore qui e per manchina abbiamo Neymar ma se lo metto adesso guardate ragazzi fa meno 2 di indesa e quindi lo metto in partita Quina partita va appena 98 messi 99 Saranno rotta la registrazione quindi non so che vi siete persi però comunque adesso lo sto attaccando Subito quello 1-0 subito ragazzi Aiuto c'è un po' di ansia che non vi siete visti qualcosa Nel dubbio questo qui c'ha due toti non 899 e sto vincendo e vi devo far vedere Zidane Ok a quello qui Madonna che parlo Ecco il mobile il mobile Il costo in mezzo il mo Ma non lo calciamo il mobile comunque ragazzi Devo... voglio provare Neymar Ecco affetta da un titan bo Oh titan Da qui Madonna Che potenza Oh Agüero qui Madonna nato parlo Ma che è oggi C'ho mai con le botte ragazzi Ecco qui il nostro titan E infatti Ehi Guarda il bel fiaseggio del 2 Oh 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 Ma madonna sti pali ragazzi adesso parlo Do sta Zidane ragazzi ma Zidane 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 Ragazzi ha perso il titan Oh Il dubbio gol di mobile Si No Che cavolo Poteva fare meglio da lì Stefano Certo poteva fare di meglio Ecco qui il nostro Zidane Oppa Zidane ancora lui E non devo fare più sta finta ragazzi Pianco se sei infortunato Bello Zidane infortunato bellissimo ragazzi Ma hai fatto lo stesso Eheh Ma quello Immobile 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 Non è immobile questo Zidane infortunato E infatti è infortunato Sì È infortunato Proviamo un Zidane 96 Si infortuna la prima partita Ok campione Grazie Gioco Ehi qua mi vincitano i giocatori Nessuno fa niente Eheh Non è più infortunato Ah 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 Bella Me la sento me la sento Bello Ma qua è fottissimo Dove mobile non ce la fa Ma perchè Vabbè se l'ha trovato sui piedi Cioè non poteva fare niente Messi 99 Ma appena 98 E il dubbio gli fa culetto tutti e due insieme Ma che squadrone Ma porco due De Bruyne no Ok adesso facciamo andare Neymar Vai mo Adesso si ragiona Facciamo questo gambietto qui E dai Messi Mbappé E vabbè E questo è gol Invece nooo Guarda che faccia Non se l'aspettava De Bruyne Dai c'è i piedi fatati Me lo sento Me lo sento Infatti è così Ma guarda Tezzo da avresta Guarda da avresta A quando siamo raga A quando siamo Ma che stiamo a fare La crossbar challenge Uno si begna E prende le daverse Vabbò E Madonna Proviamo questo Neymar Madonna Madonna sembra fottissimo Sembra veramente fottissimo Sembra veramente fottissimo Sembra fottissimo Raga ma quanto è fotti Neymar Ma pure Zidane Ma pure Zidane Sta facendo di riusciata Ma che cavolo Quanta qualità In questo campo adesso Quanta qualità ragazzi Neymar e Zidane Stanno facendo spettacolo Oppè Basta adesso Facciamo una azione Fatta bene C'è vabbè ma questo è pazzo Ma io di più Oh ci vai Non ci vai Ho faiato Lo faccio sempre questo sbaglio Lo faccio sempre Raga incredibile Questo effetto roso Che pizze oh Ma pure più che league Faccio quale Raga E prendo queste cazzate qua Vediamo che piede c'ha questo va Ma guarda tu E dai pezzinitin Proviamo Zidane 96 Non ci arriva la palla C'ha sentiti? Zidane Icona 96 Collettino collettello Zinedine Zinedan Mamma mia Ha ha Allora che fate E c'avevo anche un'altra partita da giocare Perché penso che abbiamo vinto questa O no? O no? Ma penso proprio di si Io qui non si passa Mi dispiace Mi dispiace Io penso che il death Abbiamo fatto noi È stato uno dei death Più belli di sempre Ragazzi abbiamo fatto un death Bellissimo Abbiamo avuto molta fortuna Voi non li voglio col subiti Non li voglio col subiti Capito? Oh avete capito No forse no Schmichael Ma quando lo supererà Schmichael E' finita E' finita E' finita E' finita 2-0 Pazzo Stai fischi abito Bravissimo abito 2-0 Easy Easy Questa win E si va E' quattro di finale del foot draft Ok ragazzi Subito la seconda partita di oggi Io in questa volta Vero Neyma Lo mettiamo da sub Cioè appena inizia partita Lo mettiamo Speriamo che non dobbiamo uno Troppo forte Perché Ma io dirò Oh Oh Anche lui Zidane96 Ragazzi Sfidate a Zidane Esageriamo la nostra candidata Totti Attenzione Siamo pronti A raccontarvi questa sfida Non cambiate canale Perchè ci divertiremo Dai questo death Te lo vingiamo ragazzi Neymar E poi titan In attacco Perfetto E adesso Andiamo a battere anche questo E così si fa in semifinale Vamosssss Rosso è rosso ragazzi Chiaramente è rosso Alexandre per sto mosso Ehm No C'è io ragazzo Adesso ho legato di sostituzioni Ok 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 Non ci siamo Non ci siamo Ma questo è fortino eh Questo è forte eh Ma poi Che duuuuuh Aaaa Aaaaa Come va andata da là Che prascolo Che schimo stamattina eh Pizzo Vabbò va Dai Zitan Ma poi con due Zinedine Tutupo Bravi Ok adesso ragazzi Facciamo volare Zin... Neymar Bravo Vai Neymar Fallo ti prego Mannaggia Fallo Si No ma che cavolo Perché sembrava gollo Che pascolo Allora le mangue angolo E dai Ma che cavolo E si va E si va adesso E si va Non si va più Si va si va invece Si va si va Ok Va bene Si E oh E rigore E qualcosa Ma che sta succedendo Sta succedendo di tutto in questo campo ragazzi Sta succedendo di tutto Campbell Ma nooo Ma nooo Continuate così ragazzi Ma è buono È buono È buono È buono È buono Anche noi Ci siamo anche noi Ci siamo anche noi Nooo Fu gioco Sì Oh cavolo No Beavissimo Campbell Un'icona con tutta l'icona Un'icona con tutta l'icona Si va a te E' veloce che fischia Comunque vada ragazzi Non ci avevo creduto Qui dentro Nel cuore Ragazzi Quindi complimenti a tutti Nooo Ma che cavolo Bello sto piedino Bello bello Goal Lo sapevo Lo sapevo Che era il gol Cavolo È lotta per la squadra No Così Lo devi lottare Lo devi lottare Oh Cavolo Bravo Bravi tutti Bravissimi Bravissimi Divendendo il fuorigioco È fuorigioco Mannaggia Che pizze Prendila Bravo 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 Non fa cazzate Ok Ok Madonna che gol sto fa Va bene Va bene Va bene Ma come non è angolo Oh madonna stamattina Ragazzi Mi sta a far sbloccare Aii C'è Che cosa No Ok ragazzi Ok Bella Zidane Madonna Che parato Che parato Questo Ma cosa Ho visto Mo Cosa Ho visto Mo Aii Mi sta parato Tutto Madonna Mi sto Invegnare No Parami un'altra cosa No C'è pure Figo Questo Bravo Bravo Che ti posso Dì Bravo 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 Fammi pure un altro Gol E fammelo No Vaffan cucco Ma Ma Vattene Da Così Se Partite 2 Sembra Il mezzo Ando Questo Non vanno Niente Qualcuno Non Fanno Il gol Per Coduro 95 Di Carta E Non Sanno Fa Vango Scombrato Scombrato Soprattutto Soprattutto Arrabbiato Ragazzi Cioè Meglio Che Perdo Così Meglio Che Perdo Così Che Se Faccio Altro Gole E Un Gol Verdo Rosico Inutile Ho Pesso Ho Pesso Vapò Io Sti De After Parco Do La Come Verde After E Pesso Così Vapò Vapò Faggiamo Nostro Gol Ecco 3 4 Io Non Pesso 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 No Io Non Lo So Ragà Non Lo So Perché Si Potrebbe Vincere Stamattita Perché Non Sono Contento Che Ho Fatto Stamato Perché Cavolo Cioè Prendetevi Un Gol Così Uffa Volevo Portarvi I pacchetti Più Più Belli Mi Dispiace Se No Me Quello Per Sbagliato L'inizio L'attita È Modulo Ragazzi Perché C'aveva Il Gocatore Che Non Si Può Gioco Questo Modulo Qui Infatti Alla Fine Ho Messo Oltra Offensivo E Hanno Gioco Tutti Un Po Meglio A Pensarci Prima Adesso Spacchettiamo Fastidio Una Vittoria Sola Che Pacchetti Proprio Schifosi Mi Sono Divertito A Gio Con A Forma Visica Mi Serviva Noi Non Doviamo Niente Vabbè The Haft Una Vittoria Sola Che Tipo Deva Dara Gano Propriato 15000 Crediti The Haft Dal Vostro King Dei Pazzi E Tutto Spero Questo Video Vi Sia Piaciuto Ragazzi Scendendo Like E Ci Diamo Un Pazzo Video Da Pazzo Is È Tutto Bella Pazzo 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 Pazzo